The Last Pig, il documentario che racconta la storia di un allevatore di maiali pentito. Per oltre dieci anni Bob Comis ha allevato maiali. I suoi animali erano alimentati in maniera sana e naturale, erano liberi di razzolare, ma poi li portava al macello, dove finivano nel piatto di qualcuno. Ma un giorno ha pensato che tutto ciò fesse distorto, perverso e sbagliato. La storia di Bob Comis è al centro del documentario The Last Pig, realizzato da Alison Argo e Joe Brunette per Largo Films grazie al crowdfunding sostenuto anche da Essere Animali. Raccontando il percorso dell'allevatore, il film solleva domande cruciali sull'uguaglianza e sul valore della sacralità della vita. La storia racconta l'ultimo anno dell'allevamento, la lotta di Bob per reinventare la sua vita, e i fantasmi di quegli animali che ha ucciso e che lo perseguiteranno per sempre, spiegano gli autori. Mission del documentario che ha già avuto la menzione d'onore alla ventiesima edizione del Cinema Ambiente di Torino ed è in concorso in numerosi festival di tutto il mondo, è che aiuti a promuovere un cambiamento nel rapporto della nostra società con gli altri animali non umani e porti a una crescita della nostra capacità di compassione verso gli altri. Dopo aver portato per anni al macello i suoi maiali, Bob ha capito che qualcosa non andava, che quel rapporto che aveva con gli animali non era sincero. Si basava su una menzogna e io mi sentivo felice accanto a loro. E loro mi seguivano, erano incuriositi da me, cercavano un rapporto. Ma sapevano che tutto questo era una falsità perché io ero un allevatore di maiali e prima o poi li avrei uccisi. E questo è ingiusto. Dopo anni passati a guardare negli occhi questi animali posso dire che nessuno di quegli sguardi è vuoto. Dietro c'è sempre qualcuno, racconta in The Last Pig. A seguito di questa riflessione, l'ex allevatore è diventato vegan, salvando la vita di 250 suini della sua fattoria. Ha iniziato a coltivare verdure e ha trasformato l'allevamento in un luogo dove gli animali non vengono più allevati per il macello, ma trascorrono serenamente la loro vita fino alla vecchiaia e alla morte naturale. Non voglio più avere il potere di decidere chi vive o muore. Ho deciso di rinunciare al mio lavoro, alla mia vita, per vivere in linea con i miei principi. Si tratta di uno sforzo colossale. Si tratta di uno sforzo terribile. Ma io mi sono impegnato a farlo, racconta ancora. The Last Pig, Proiezioni L'Associazione Essere Animali organizza una serie di proiezioni del documentario che non contiene nessuna scena forte. Al tour di serate parteciperanno anche la pluripremiata regista Alison Argo e il protagonista del documentario, Bob Comis.